Magari scappellatelo meglio, così va su un po' meglio. Il glande deve essere ben lubrificato, perché lui deve scivolare. Dai, mettiglielo su un filino, sul glande bene. E anche sotto, perché se no, praticamente sotto... No, sotto, 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 esatto, bravo, il glande, così. Ecco, a questo punto lo si riposiziona in questo modo, ok? Ok? E va su piano, 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 eccolo. Proprio dolcemente. Eccolo. Allora, eventualmente, lo si riprende. Piano. Ok, gli si dà un po' più di volume. Adesso lui è da tre anni che è fermo, quindi stiamo... Quest'operazione va fatta dopo almeno una settimana, insomma, di ginnastica, per dargli un po' di corporatura. Piano, piano. Ecco, qui che parte. Fermo un attimino. Al limite lo stacchiamo un attimino. Ecco, lui ha proprio i testicoli proprio attaccati. Piano, piano. Eccolo qui che lui sta andando. Noi possiamo anche stare fermi, perché stando fermi qui c'è del vuoto e pian piano il sangue si estende. Lui è molto ristretto qua, ok? Quindi il suo lavoro sarà quello di fare molta ginnastica in modo da aumentare il diametro in questa zona. Come si vede qui si ingrossa molto qui e pochissimo qua. Tanto lui sta andando. Adesso noi velocemente andremo a buttare giù l'anello e poi lo stacchiamo. Eccolo qua. Grazie. 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 Grazie.